Ciao ragazzi, bentornati, Stefano Parenti, Personal Trainer a Londra. Innanzitutto volevo ringraziarvi per le tante domande che ho ricevuto su Instagram, mi fa molto piacere, vuol dire che comunque i video abbiano suscitato dell'interesse, sono molto contento, soprattutto riguardo ai SARMS, perché ho visto e ho notato che ci sono tantissime disinformazioni e non comprate informazioni per quanto riguarda trainer e preparatori in Italia che non raccomandano assolutamente post-cycle therapy, comunque non considerano i SARMS come qualcosa molto simile agli steroidi e anche non dicono che comunque sono sostanze dopanti, dobbiamo comunque ricordare che se voi andate e siete comunque degli atleti, dovete andare sullo stage, al momento in cui prendete i SARMS non siete più natural ragazzi, non lo siete più, fate facendo uso comunque di sostanze dopanti, quindi se la competizione è controllata andrete comunque a risultare positivi al test, questo ci tengo comunque a specificarlo perché comunque dalle domande che mi avete fatto ho riscontrato questo che molti preparatori dicono, ah ma non ti preoccupare, non hai bisogno di post-cycle therapy, non hai bisogno di quello, non è doping, è un'alternativa, i SARMS si sono un'alternativa agli steroidi, ma comunque sono sostanze dopanti che risultano positive ai test di controllo, quindi detto questo, ho detto tutto, mi raccomando se dovete gareggiare in una competizione natural sappiate che queste tipo di sostanze non sono accettate in maniera assoluta, bannate, non sono sicure, punto, non c'è più niente da aggiungere perché dal momento in cui ci danno una mano a sviluppare massa muscolare, e comunque noi andiamo anche con un ciclo diciamo ridicolo, andiamo a guadagnare 8 kg di massa muscolare nel giro di 6-7-8 settimane, pazzesco, cosa che comunque a livello naturale richiederebbe comunque moltissimo tempo, ovviamente stiamo parlando di atleti che già hanno comunque avuto esperienza in palestra, già comunque sono anni che si allenano, e 8 kg di massa muscolare dopo tanti anni di allenamento, sono tantissimi, tantissimi, ovviamente per una persona, un beginner che ha appena cominciato può anche essere il doppio di guadagni muscolari perché comunque non ha neanche raggiunto neanche lontanamente il suo limite genetico, e quindi tutto dipende, però sappiate che sono bannati, comunque vi ringrazio per il sostegno e il supporto, e se avete altre domande mi fa sempre più che piacere parlare con voi, cercherò comunque di ampliare anche la mia attività su Instagram anche se mi è difficile, perché comunque come sapete sono un personal trainer, è abbastanza impegnato, diciamo molto impegnato, quindi cercherò, cercherò magari di portarvi comunque altri allenamenti e via discorrendo, così che potete trarre anche ispirazione. per quanto riguarda la mia filosofia d'allenamento. Detto questo, passiamo comunque all'argomento di oggi, voglio farvi comunque un argomento abbastanza corto e sintetico. Mi è stato chiesto come mantenere i guadagni muscolari dopo un ciclo di SARMS. Una domanda diciamo molto sensata, perché comunque come sappiamo, appena noi stoppiamo i nostri compound, i nostri SARMS, ovviamente togliamo comunque la benzina, togliamo comunque il fuoco dentro di noi e quindi andiamo comunque a calare, ovviamente a livello di prestazioni e quindi anche di guadagni muscolari e potremmo tornare indietro. Un consiglio che vi do, soprattutto quando andate a fare comunque anche uno stack, anche uno stack di SARMS. Finito lo stack di SARMS, potete comunque nel tempo di riposo introdurre MK677. E voi mi direte, ma non c'entra niente, è qualcosa di tutto diverso? Sì, non c'entra assurdissimamente niente, ma grazie alle sue proprietà comunque alla capacità di ammontare la produzione dell'ormone della crescita ci aiuterà comunque a mantenere i nostri guadagni muscolari. Qualcosa andremo sicuramente a perdere, senza ombra di dubbio, ma direi non tanto e poi comunque noi sappiamo che quando siamo comunque sotto sostanze comunque SARMS o anabolici in generale, anche la nostra forza aumenta, aumenta la nostra... quindi la possibilità di infortunarsi diventa comunque maggiore, perché noi andiamo ad utilizzare pesi maggiori, i nostri legamenti comunque non sono comunque adattati a quei determinati pesi e noi facciamo quel salto di qualità rapido, repentino, veloce. E quindi non diamo tempo ai nostri legamenti di adattarsi alla nostra composizione ossea e via discorrendo. Quindi MK677, oltre al fatto che ci permetterà comunque di mantenere i nostri guadagni muscolari dal ciclo, ci darà anche la possibilità di rigenerarci. Esatto. Quindi un ciclo non deve essere di MK677, comunque lunghissimo in questo caso, perché noi lo utilizzeremo come sostanza rigenerativa dei nostri legamenti, riparazione dei muscoli, lo utilizzeremo per questo. Quindi se noi facciamo un ciclo di SARMS basso, perché io sempre mi riferisco ad un basso dosaggio, non occorre andare crazy, no, don't go crazy con i SARMS, perché sono come gli steroidi. Però mettiamo caso che noi facciamo il nostro ciclo di SARMS otto settimane, poi andiamo un mese, anche due mesi sotto MK677 e poi ricominciamo il nostro ciclo di SARMS per continuare comunque i nostri guadagni muscolari, fa di andare avanti, di progredire. E questo comunque è un modo intelligente per utilizzare questo tipo di compound ed evitare, per lo appunto, di esperienziare comunque effetti collaterali non gradevoli e di cercare comunque di mantenere i nostri guadagni muscolari e progredire nel tempo. Quindi non ricominciare sempre da zero, poi finiamo il ciclo e perdiamo tutto e quindi ricominciamo da zero. Riprendiamo tutto? No! Così li abbiamo costanti, piano piano, così si fa. I muscoli si costruiscono con il tempo, quindi piano piano, senza esagerare, con i dosaggi, quello che noi necessitiamo. 20-30 mg per esempio per quanto riguarda Rad140, rispondendo anche a un ragazzo che mi ha scritto su Instagram, certo va bene, 20-30 mg, poi cosa faccio? Ho finito il ciclo per non perdere i guadagni che ho ottenuto da Rad140, prendo MK677, due mesi e poi ricomincio con Rad140, 20-30 mg. Mantengo i miei progressi nel tempo senza mai esagerare con i dosaggi e cercare comunque di stare sempre in salute. Con questo voglio dire, non raccomando comunque l'utilizzo dei SARMS assolutissimamente, anche nel mio caso io li uso una volta all'anno, una volta all'anno, per davvero. Ma non dobbiamo neanche fare la mentalità del Medioevo. Nel Medioevo, come abbiamo potuto vedere, sarà un periodo abbastanza a cupo per la nostra società. Ogni cosa, ogni innovazione era vista come qualcosa di tremendo da buttare al ruoco. Per me i SARMS e come altri tipi di compound possono anche essere utilizzati per migliorare la nostra qualità di vita. Assolutissimamente tutto sta nell'intelligenza, perché la scienza comunque ci progredisce, ci dà comunque delle opportunità per sentirci in forma, per stare meglio. E se voi pensate ancora che hanno sbarsa negra, se deve essere stallone, non usino tuttora sostanze anabolizzanti, allora proprio non ci siamo capiti. Perché determinati tipi di fisicità ha quella età senza sostanze anabolizzanti, quindi, ahimè, non si raggiungono. E questo è un concetto che deve essere comunque chiaro nelle vostre teste. Ricordatevi sempre che il 95, anche il 98% dei tutti i video che voi vedete su YouTube, di persone che clamano di essere natural, purtroppo non lo sono, ma non ve lo dicono, perché comunque hanno qualcosa da perdere. O perdono contratti con gli sponsor, contratti con integratori, e via discorrendo. Hanno degli interessi che devono comunque mantenere. E nessuno comunque gli dice niente, perché comunque è la loro scelta, ma è a voi che spetta il giudizio. Con questo ragazzi vi ho detto tutto, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e se avete altre domande, richieste, contattatemi su Facebook, su Instagram, dove volete, e io vi risponderò. Ciao ragazzi, alla prossima!